Coste di Maseri in festa per la sua campionessa la 25enne Marina Vettoretto di ritorno da Abu Dhabi dove ha conquistato due medaglie ai mondiali degli Special Olympics. Siamo qui per festeggiare la nostra campionessa Marina Vettoretto. L'affetto di mamma e papà, degli amici, la banda, i volontari del gruppo festeggiamenti Coste, l'amministrazione comunale e poi la sorpresa della lettera di complimenti inviata alla campionessa dal presidente del Veneto Luca Zaia, eletta dalla consigliera Silvia Rizzotto. Una grande festa per Marina, medaglia d'argento nei 100 metri d'orso e nei 100 metri stile libero, tanto da ricevere anche i complimenti del campione Federico Colbertaldo. L'eco delle tue vittorie mi è giunto fin qua a Bangkok. Sono orgoglioso di essere italiano, di essere un tuo paesano e sono veramente orgoglioso di sapere che sei sempre che combatti per noi. Marina, atleta della polisportiva Terraglio di Mestre, che in vasca è scesa per la prima volta a 10 anni per vincere la paura dell'acqua e che ha trasformato il nuoto nella sua passione, tanto da raggiungere il podio mondiale. Sul palco di Coste, il grazie dell'assessore allo sport Marco Sartore del sindaco Daniele De Zenn. Innanzitutto i complimenti a Marina per questo splendido risultato sportivo. Due medaglie agli Special Olympics che ci rendono orgogliosi che sia una nostra concittadina. Avere qui a Maser con essa di questa attività, di questa associazione, è per tutti noi motivo di vanto. Un piccolo riconoscimento da parte del Comune. Questa è una targa appunto dedicata a te per appunto, per ringraziare appunto da parte dell'amministrazione, sai. Grazie. Un abbraccio collettivo, un entusiasmo travolgente. Farina, 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 Farina.